Il comitato di quartiere di Lipunti, recentemente costituitosi e presieduto da Gianluigi Patorno, si è riunito in seduta pubblica nei locali dell'ex circoscrizione in via Era. Presente è l'assessore comunale alle economie e finanze Simone Campus, che ha anche portato il saluto del sindaco Nicola Sanna, impegnato a Roma in una riunione del Lanci. Il comitato ha lo scopo di interfacciarsi tra gli abitanti del quartiere e l'amministrazione comunale con una funzione consultiva, raccogliendo e segnalando costantemente le diverse problematiche e criticità che possono insorgere. Nel corso della riunione, il consiglio direttivo del comitato ha approvato l'atto costitutivo e il proprio statuto e formato dei gruppi di lavoro dedicati all'analisi dei problemi, quali la sicurezza, l'ambiente, il verde pubblico, le scuole, i servizi sociali, i trasporti e altro. Per raccogliere le segnalazioni e le richieste dei cittadini, verrà presto aperto in via Era 3 uno sportello cosiddetto Leap Point, operativo tutti i mercoledì mattina dalle 10 alle 12.